Salve a tutti, quest'oggi parliamo di Fallout, la recente serie di Prime Video che va ad adattare una famosa serie di videogiochi di Bethesda, quantomeno per quanto riguarda i capitoli dal terzo in poi, che io ho gradito davvero tantissimo. C'è questa nuova ondata di adattamenti videoludici perché il cinema e le serie tv non sono nuove ad adattare prodotti di questo tipo, solo che è cambiato un po' il paradigma perché fino a tempi recenti tutto quello che veniva tratto dai videogiochi che non appartenesse a quel media lì era a dir poco osceno, mentre ultimamente fortunatamente c'è stata un'inversione di tendenza. Basti pensare al caso emblematico di The Last of Us di HBO che tra l'altro per assurdo ho gradito meno di questo Fallout nonostante io adori i giochi di Naughty Dog. Non solo, c'è stato anche il caso famoso di Arkane per quanto riguarda Netflix, ci sono stati altri adattamenti più o meno zoppicanti come Uncharted ad esempio, poi ci sono stati i film di Sonic che sono davvero molto carini e divertenti, la serie animata di Caphead che a sua volta è decisamente gradevole, quindi sembra che finalmente si stia capendo come adattare i prodotti videoludici. Però questo Fallout in realtà non mi convinceva granché, per il semplice motivo anzitutto che Prime con le sue serie di punta stava toppando clamorosamente negli ultimi tempi. Guardasi il Signore degli Anelli, gli Anelli del Potere, guardasi quello scempio che è la ruota del tempo, vedasi anche The Boys che continua a girare su se stesso e a riproporre sempre le stesse cose, quindi non ero convintissimo. Poi erano uscite certo le prime foto dal set che davano una gran sensazione di pezzotto e plasticoso, ma si sa che quelle foto dal set poi non erano troppo indicative perché c'è la post-produzione, l'effettistica eccetera, erano coinvolti i nomi di Jonathan Nolan e Lisa Joy che sono nomi anche piuttosto importanti, soprattutto in tempi recenti, per quanto riguarda la serialità televisiva. Solo che dopo la prima stagione capolavoro di Westworld, questa serie di cui si sono occupati, ha visto un lento decrino fino all'assurda cancellazione, dico assurda perché ormai mancava solo la quinta stagione, visto che il progetto riguardava 5 stagioni della medesima, e inoltre quando sono stati rilasciati i trailer che mi erano piaciuti molto, è venuta fuori anche l'informazione che la serie sarebbe stata rilasciata in binge, ovvero tutta insieme sulla piattaforma di streaming, che è una prima volta per Prime Video, cosa che metodologia che non veniva effettuata nemmeno con serie minori come ad esempio Upload, c'è sempre stata una formula con tre episodi in anteprima la prima settimana, e poi cadenza settimanale per tutti gli episodi successivi. Quindi il fatto che venisse rilasciata in blocco faceva parecchio dubitare, poi a posteriori può anche essere stato un colpo di genio, non lo sapremo mai perché magari volevano che la loro serie fosse rilasciata in formula Netflix e vedere se sarebbe esplosa, cosa che fa ridere visto che si parla di Fallout e di bombe atomiche, ma maggiormente io sono per la scuola di pensiero, è stata rilasciata in blocco perché non ci si puntava affatto, cosa assurda vista la qualità del prodotto finale, perché Fallout per quanto mi riguarda è davvero una grande serie, e il suo più grande pregio è quella di essere affascinante anche per chi non sa assolutamente nulla della serie videoludica. Io che invece sono grande fan dei videogiochi da Fallout 3 in poi, l'ho adorata e sono riuscito sicuramente ad apprezzarla molto di più per i vari riferimenti, easter egg per l'atmosfera che si respira, perché questa serie trasuda Fallout da ogni poro, c'è tanta passione e tanto cuore dietro e si vede. Sicuramente il livello tecnico è un altro grande pregio perché ogni tanto c'è quell'effetto pezzotto, plasticaccia, ma ce ne se ne dimentica subito perché il contorno, tutto il contesto e tutto quel che c'è visivamente è davvero tanta roba, dai costumi che soprattutto non danno quel senso di cosplay di pulito, ma sono usurati, sporchi, lavorati per essere resi credibili. Le armature, le armature atomiche all'inizio possono dare quell'effetto di finto, ma poi anche loro fanno il loro mestiere, diciamo così. La fotografia e la regia sono di buonissimo livello, tornando per l'appunto al discorso del coinvolgimento di Jonathan Nolan fra gli altri. Ci sono ottimi effetti speciali e visivi per quanto mi riguarda, alcuni sono prostetici, altri sono digitali, non li ho trovati osceni come ho letto da alcune parti, fortunatamente per la maggiore sono stati apprezzati come nel mio caso. Le creature sono fatte per lo più benissimo, c'è qualche scivolone qui e là, ma d'altronde stiamo parlando di comunque una serie di otto episodi, di una stagione di otto episodi da un'ora all'uno, quindi c'era davvero tanto lavoro dietro da questo punto di vista. Le scenografie e le ambientazioni sono fantastiche, qua adiuvate per l'appunto da una fotografia che riesce ad esaltarle e a dare una grande atmosfera alla serie. I vault sono costruiti benissimo, non me lo aspettavo minimamente e seppur il budget era alto, sì, mi aspettavo qui e là dei passaggi notevoli, ma non mi aspettavo questa omogeneità di livello altissimo per tutta la durata della stagione. Gli attori sono molto bravi a loro volta, si sono calati per bene nella parte. La protagonista che avevo già visto è la Purnell in Yellow Jackets, mi è piaciuta davvero tantissimo, anche perché Yellow Jackets non è che avesse chissà quale screen time o brillasse più di tanto, per quanto fosse stata comunque bravina. Qui invece se l'è cavata alla grande, aiutata anche da un bel cast di comprimari, ci sono anche nomi piuttosto noti e importanti, Walton Goggins, tutti che ruba la scena nei panni del ghoul. Ci sono Michael Emerson, anche Kyle MacLachlan in ruoli molto minori, soprattutto Michael Emerson che è il Ben Linus di Lost, la mia serie preferita. Ha un ruolo molto particolare, compare poco e al contempo compare sempre. Chi ha visto la serie capirà di cosa sto parlando. Kyle MacLachlan che è il mitico agente Cooper di Twin Peaks e che ha fatto tanti altri ruoli, ad esempio è stato anche Mr. Raiden in Agents of S.H.I.E.L.D. è stato il protagonista del Dune di David Lynch e tantissimi altri prodotti. È stato a sua volta bravo, compare anche lui poco, ma da quello che si evince dalla serie tornerà. E ci sono anche altri attori che se la sono cavata. L'unico a fungere da nota più o meno stonata è l'interprete di Maximus, non tanto per le sue doti attoriali quanto per come è stato scritto il personaggio, che spesso e volentieri è altalenante, patetico, lunatico, però per come si conclude la stagione, con il finale di stagione si risolleva anche lui. La colonna sonora. La colonna sonora è probabilmente l'aspetto migliore in assoluto di questa produzione, d'altronde ad occuparsene è Raminjawadi, che è sempre una garanzia, si è occupato anche delle musiche di Game of Thrones e altre serie, altri film. È decisamente bravo, ha colto quello che era lo spirito di Fallout, andando a pescare tra l'altro tra numerosissime tracce degli anni 50 che si sposano alla grande con quello che si vede a schermo. Quindi davvero non riesco a trovare dei grossi difetti a questa serie, a parte appunto una delle tre storyline principali che è piuttosto zoppicante. I riferimenti invece per quanto riguarda gli amanti dei videogiochi sono tonnellate, ti vengono sbadilati di continuo in faccia, ogni singola inquadratura presenta una qualche chicca qui e lì, dai cibi tipici del gioco di Fallout, a riferimenti visivi per quanto riguarda le scenografie come ad esempio il Red Rocket, il Super Duper Mart, le creature, il vestiario, anche un paio di bombette sul finale di stagione che coglieranno solo gli appassionati di videogiochi, quindi magari il finale è un po' depotenziato per chi invece la serie se la sta guardando senza avere nulla, nessuna conoscenza pregressa del prodotto. Quindi per me in generale è strapromossa e anzi per me il miglior prodotto adattamento videoludico recente, forse in assoluto per quanto riguarda i live action, almeno per quanto mi riguarda, per come sono i miei gusti, perché in senso assoluto non lo posso dire perché Arkane è decisamente superiore, però è una serie animata, e quindi la promuovo alla stragrande, consiglio a tutti di vederla perché, ripeto, è notevole anche per chi non conosce videogiochi. Dovessi fare qualche spoiler delle scene che mi sono piaciute di più, parto proprio dal personaggio di Michael Emerson e del perché, ho detto che è sempre presente pur avendo una parte piccola, perché è presente vivo solo nel secondo episodio, dopo la sua testa diventa un po' il Deus Ex Machina, un po' il filo conduttore di tutta la stagione, far ridere, vedere la sua testa che continua a passare di mano, viene ingerita dai mostri, si continua a decomporre via via che la stagione va avanti, quindi c'è anche grande attenzione al dettaglio, a me ha fatto ridere davvero tanto. Mi hanno sorpreso le storyline secondarie, come quella del fratello del protagonista, a cui io inizialmente non davo una lira, quando ho cominciato a vedere che c'erano molte scene concentrate su di lui e degli altri abitanti del Vault, dopo l'attacco invece poi, quella storyline assume anche una grande importanza ed è anche molto catchy perché riguarda complotti e misteri che poi andranno ad intersecarsi con tutte le altre linee narrative che mi hanno tenuto comunque sulle spine, perché va ricordato che questo prodotto non è un adattamento delle linee narrative o delle storyline presenti nei videogiochi, è una storia nuova, altra cosa che all'inizio mi terrorizzava e che poi mi sono ritrovato ad essere stupito e impositivo, ed è tra l'altro anche canonica e posteriore a tutti gli eventi di tutti i giochi finora usciti. Quindi anche questo è molto interessante perché regala anche delle chicche, niente male, a livello di lore dell'intera serie di Fallout, come ad esempio tutto il complotto che c'è dietro alla costruzione dei Vault, i personaggi che ci sono dietro, quale è stato il ruolo della Vault-Tec, della Robco e così via. È stato davvero molto bello scoprirlo. Poi ho amato tutte le parti splatter in cui viene mostrata questa violenza che però non ti viene sbattuta in faccia in maniera cruda, ma sempre in maniera talmente eccessiva da risultare quasi ironica e divertente come è tipico del gioco. Infatti le scene splatter nel gioco sono relegate ad un tipo di gameplay che riguarda il gunplay, ovvero un tipo di meccanismo chiamato spav in cui si ferma il gioco e si decide in quale punto del corpo sparare al nemico e in caso in cui si fa un critico c'è una scena molto gore con arti che si staccano, cervelli spappolati e così via. Altra chicca è l'ironia che permea la produzione perché Fallout è sempre stato contraddistinto da un forte humor nero qui e là e anche questo è stato un elemento ripreso dalla serie quindi altro pollice su. Tornando agli spoiler ho apprezzato tantissimo il finale però questo come dicevo riguarda gli amanti dei videogiochi perché si vede il cranio di un il teschio di un Deathclaw che è una creatura che non è presente in questa stagione ma che ci viene fatto capire sarà presente nelle successive e soprattutto il personaggio di Kyle McLachlan arriva a New Vegas quindi per chi non conosce il gioco quella scena non significherà assolutamente nulla per chi conosce la serie e ha giocato a Fallout New Vegas invece sicuramente avrà avuto un friccicorino nelle parti basse di entusiasmo. Altre scene che ho apprezzato sono tutti i flashback sul personaggio di Walton Goggins che ci danno una panoramica per l'appunto su dei retroscena della costruzione dei Walt ma non voglio dilungarmi oltre non voglio anticiparvi altro della serie che ripeto per me è clamorosa quindi alla grande guardatela se avete Prime Video non lasciatevela sfuggire perché merita tantissimo ovviamente straconfermata la seconda stagione perché Amazon ha notato il successo è una delle serie più viste in assoluto la seconda di Prime quindi ovviamente non poteva che esserci il rinnovo e di questo sono strafelice non vedo l'ora di vederla. Grazie a tutti.